Torna lo sbaracco in versione riveduta e corretta, niente merce esposta fuori dai negozi e massimo rispetto delle misure anti-covid. Botteghe del centro e Confcommercio Cremona hanno ripensato all'insegna della responsabilità e della sicurezza la manifestazione dedicata alla chiusura dei saldi, con una formula adeguata all'emergenza sanitaria. E complice anche il bel tempo, tutto sommato questa mattina abbiamo colto un certo ottimismo da parte dei commercianti. Ma sì, dai, non male, visti i tempi, riusciamo ancora a contenere il tutto e va bene, dai, complice il tempo, direi che sono soddisfatta. Nonostante non si possa esporre la merce all'esterno. Certamente esponendo è meglio, la gente si ferma di più, non è vincolata all'acquisto, entrando uno si sente un po' vincolato, però va bene lo stesso. E poi è un po' un paradosso, costringere ad entrare quando invece ci si dice che dobbiamo rimanere all'esterno. È vero, è vero, però come si fa? È così. Bene, ieri è stata una giornata soddisfacente, c'era in giro parecchia gente, rispettando ovviamente tutte le normative e tutti i dispositivi della sicurezza. Le persone hanno voglia di uscire e di tornare ad una normalità e sentendo i commercianti hanno funzionato sia le promozioni dello sbaracco ma anche le nuove collezioni. Certo non è lo sbaracco di un tempo. Purtroppo no, purtroppo si sente già solo il silenzio che c'è per la città, fa capire che la situazione non è quella di sempre, i banchi fuori creano comunque allegria e movimento. Speriamo di poter tornare presto a questo sbaracco. La merce all'esterno dà quel senso proprio dello sbaracco tipo mercato, tipo che la gente gira, tocca, guarda. Mentre con l'ultima ordinanza ci hanno vietato di esporre gli stendini all'esterno e hanno ordinato addirittura che ogni negozio devono entrare una persona solo per il nucleo familiare. Insomma, c'è altre restrizioni dovute al Covid. È chiaro che lo sbaracco come siamo abituati noi non è questo. Eh sì, niente merce all'esterno però mi sembra corretto nei termini del momento che stiamo vivendo. E comunque noi commercianti ci teniamo comunque a mantenere anche così questa sensazione di normalità attraverso questi eventi che cerchiamo di vivere al meglio nel rispetto diciamo di quello che è la situazione odierna e del periodo per alietare comunque anche un po' una giornata sorridente, comunque una domenica che magari dal momento che non si può andare da nessuna parte magari potrebbe essere anche piacevole riscoprire le vie della propria città e di magari così contribuire a tenerla viva e dare un segnale di speranza. Molto limitata prima di tutto perché avendolo all'interno già non c'è la possibilità di esporre le cose, le persone non girano, non guardano come sarebbe di solito. Ma soprattutto non c'è gente nel senso che non possono venire, non possono arrivare, quindi si fa quel che si può insomma. Non è da paragonare assolutamente agli altri sbaracchi.